La pizza a casa la possono portare tutti quanti, è vietato fare i cafoni, cioè consumare le pizze in mezzo alla strada come tanti profughi eccetera eccetera, questo è vietato, cerchiamo di fare come a Barcellona dove il consumo di alcol è proibito sempre in mezzo alla strada, non per il Covid, sempre, per ragioni di civiltà e di decoro urbano.